Ok, è qua, fa vedere, abbiamo vinto. Fagli grattare. Vuoi grattare? Gratta bene, eh? Gratta bene. Bene. Abbiamo vinto, evviva! Abbiamo vinto! Cos'hai vinto? Sono dì! Quanto hai vinto? Tanti, tanti! Pochi, dieci euro appena, dai. Ne prendiamo ancora due, e se ammai? Eh, amore? Cos'hai vinto, Nicole? Di dieci! Cosa sono i soldini? Soldini ha vinto, tanti! Evviva!